Il Lecce torna al successo battendo 2-0 la Juve Stabia e gioca una delle più belle e convincenti partite disputate quest'anno dai giallorossi. La squadra salentina ha messo l'abito delle feste e ha annichilito un avversario arrivato sia al Via del Mare con numerose assenze, ma che pur a pieno organico probabilmente avrebbe trovato pane duro per i propri denti al cospetto di una formazione che è stata compatta, veloce e ragionatrice per l'intera durata della gara. Insomma, tutto un altro Lecce rispetto alle ultime due uscite per un gruppo che conferma di avere un ruolino di marcia ineccepibile tra le muramiche e di balbettare un po' troppo in trasferta dove tuttavia riesce almeno a non perdere. Ieri pomeriggio vincere era d'obbligo per gli uomini di mister Piero Braglia che ritrovava la sua ex squadra ma a cui non ha concesso certo sconti né lasciato spazio per emozioni se non nel post-match in conferenza stampa e vittoria è stata anche per mantenere invariate in classifica le distanze dalle altre pretendenti alla vittoria del campionato che continuano a macinare punti come schiaccia sassi. Contro le vespe di mister Zevettieri sono finiti sugli scudi gli autori delle due reti leccesi, vale a dire Juan Surraco e Ciccio Cosenza ma voti alti li meritano un po' tutti gli uomini scesi in campo su un manto erboso degno di tal nome e di categorie superiori alla Lega Pro. Menzione speciale poi per il bomber Davide Moscardelli a cui solo la sfortuna di un grande Polito hanno negato la gioia di un gol personale che avrebbe meritato per cabarbietà e dinamismo messi in mostra. Il successo non è stato quindi casuale visto che dietro c'è stata un'ottima prestazione corale di un gruppo che voleva dimostrare di essere all'altezza delle attese di società e tifosi e di voler cancellare l'opaca immagine data nelle ultime due trasferte. Un 3-4-3 più puro insomma dei precedenti proposto al cospetto della formazione campana si è dimostrato la strada giusta su cui impostare il girone di ritorno e la campagna di rinforzamento invernale impostata finora dal club giallorosso sembra andare proprio in tale direzione. I tifosi apprezzano e dalla fine sono solo applausi per tutti in una domenica in cui meritano la citazione i vari Lepore, Dumbia, Abruzzese e Legittimo.